Volete papunototi eh? Allora passate da fifacoinsbuy.com e applicate lo sconto ilcine in minuscolo per avere il 5% di sconto, link in descrizione. Bella ragazzi, qui è il Cine e oggi siamo qui finalmente tornati con il decimo episodio del Rottucina Team. Come potete vedere la squadra è questa e rimarrà tale perché adesso siamo arrivati circa a 8000 crediti e tra poco potremo prenderci il nostro smalling. Dembere purtroppo è infortunato, è ancora fuori per una partita quindi giocherà al suo posto Mandeville, lo so che vi piace di più eh che giochi Mandeville. Comunque prima di incominciare volevo farvi vedere un secondo come acquistare dal sito fifacoinsbuy.com avete la schermata home con Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4. In questo caso FIFA 17, non c'è ancora FIFA 18, praticamente c'è il player auction 2.0, il comfort trade 2.0 e poi ci sono quelli normali. Io vi consiglio di utilizzare il 2.0 perché appunto voi create un account e vi registrate sul sito, loro vi mandano i crediti e poi scegliete voi quali giocatori listare. In ogni caso qui potete tipo cambiare in euro, cambiamo in euro e qui ci sono tutti i prezzi per i vari crediti. Vi consiglio di acquistarli prima dell'uscita dei tots perché se no altrimenti iniziano ad alzarsi i prezzi di brutto e voi non avete neanche uno stock. Quindi una volta che voi avete scelto ad esempio 400.000 crediti, schiacciate compra ora, a questo punto esce fuori il checkout, voi andate il checkout e vi chiede, vabbè ovviamente qui non mi sono iscritto, però appunto dovete iscrivervi per avere l'aution 2.0. Una volta che comprerete con uno di questi metodi di pagamento che ci sono qua sotto, potete anche usare PaySafe Card se volete, se non avete una carta o una Paypal, il vostro ordine verrà approvato, potete andare nel vostro account e quindi vedere che ci sono i coins all'interno. In questo caso io sto parlando dell'account di FIFA Coins Buy, non del vostro account della Playstation e dell'Xbox. E una volta fatto ciò potete listare tranquillamente, senza impegno, senza appunto avere fretta, i vostri giocatori nel vostro account per avere i vostri crediti che avete comprato. Molto semplice, molto facile, intuitivo e come sapete c'è anche il 5% di sconto con il codice ilcina. Quindi speriamo di vincere tutte e tre le partite, siamo in divisione 7 e stiamo per passare alla 6, speriamo oggi di passare alla stessa divisione. 2500 like ragazzi vi chiedo, ok partiti con la prima sfida, orco, cane, musa, i vardi, i mortacci su e poi abbiamo due di latenza come al solito figuratevi se noi riusciamo ad avere una latenza ottima. Quindi probabilmente sono gli avversari che non hanno connessione, sarà difficilissima questa partita ma noi confidiamo in grey, mettiamo subito in difensiva, c'ho un'acqua davanti quindi non vedo un cazzo. Ma Ruan Fellaini subito cerca il varco, intanto stanno già andando a rilento, non capisco che cosa sta succedendo. Sanchez dentro per Pisces, che sbaglia tutto Pisces, dai per favore non far cazzate eh, non iniziamo, dai con calma, tranquillo, guarda grey, è fuori gioco, mortacci di grey. Vai subito Musonda, attenzione, c'è la fascia non libera però fa niente, noi passiamo con Emre Chan dentro, grey, uh Mandeville, vai passa Mandeville, vai corri. Cazzo Mandeville poraccio, partito in velocità Musonda, vabbè bravo, mamma mia l'abbiamo spiazzato, l'abbiamo spiazzato, entra dentro, Kevin Musonda, Kevin, Luke Shaw no. Oh, Luke Shaw, why do this to me, adesso devo fare il gol dello schifo di calcio d'angolo perché, madonna Fellaini, cazzo c'hai una testa quadrata c'hai, grey, corri, se non corri cazzi tuoi. Vai, vai Mandeville che l'ha visto, attenzione, Mandeville, l'assist, dentro per Emre Chan. 1-0, sotto l'incrocio, Emre Chan colpisce e Ruttucina Team si porta in vantaggio contro una squadra di baggati forte, però adesso cerchiamo di non farlo giocare più perché vai Mandeville, bellissimo però l'assist di Mandeville. No Musa, orco cane, no don't do this, don't do this to me, bravissimo butlone, c'è Stones dentro, Stones! Calcio d'angolo, calcio d'angolo, li stiamo pressando come i cricettini d'inverno, vai dentro Fellaini, no non facciamolo girare, Maruan, oh cazzo, oh no, per fortuna mamma mia, vai Fellaini prendila però sta palla, eh dobbiamo farne un altro se no qui al 45esimo. Cristo Dio, no Eriksen, no Eriksen, no no no, no che c'è la sovrapposizione di Musa, stiamo attenti, stiamo attenti ragazzi, questo è un baggato, questo è un baggato ragazzi, va bene, va bene così e finisce il primo tempo sicuro, è che non sto capendo niente. Sanchez è entrato dentro, attenzione, dentro, Mandeville e c'è il gol di Mandeville, Liam, 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 Mandeville colpisce e Rotucina Team si porta 2 a 0, madonna, ha fatto tutto il campo. Liam, Mandeville, il nostro bronzo super baggato fortissimo e adesso Gray, Gray per favore, vai mamma mia che cazzo di gol, ancora Gray, vede Musonda che è partito, non lo fermano più nessuno, non lo ferma più nessuno. Kevin, Kevin, vede Luke Shode, di là Orko Cane, era bella l'idea, dentro, Longshot Beach, dentro, io ti vedo Fellaini, lo so che si, ti voglio bene, ti voglio bene Fellaini! Vedi, vedi, vedi che se dico ti voglio bene, lui fa gol, mamma mia che gol, bellissimo, 3 a 0, il Rotucina Team è fortissimo, buttiamola via, Liam Mandeville, è partito in velocità, vede Gray, attenzione, mamma mia, che passaggi perfetti, bellissimo, Emre Chan, attenzione, Emre Chan, dentro, Gray, 4 a 0, mamma mia che giocatori. Che squadra, che, che, che azione che abbiamo fatto, tutto partito da Liam Mandeville, vai, 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 vai Gray, bello di testa Gray, eh Musonda, madonna, come stiamo giocando, Kevin Musonda, se ne va da solo, se ne va da solo! Oh, attenzione perché c'è il quitterone, c'è il quitterone, eh c'è il quitterone, 9.6 Liam Mandeville e ci portiamo a 8500 crediti, c'è il cicciarito, Gomez, Götze, mamma mia questa squadra qui è bella, tosta anche questa. Quindi cercheremo anche qui di vincere questa partita, la vedo dura perché andando praticamente verso la fine del titolo, FIFA è stronzo e ti fa trovare i giocatori forti, quelli non debolissimi, ancora Liam Mandeville, vede dentro, Emre Chan che passa, Emre Chan e fa subito il gol al primo minuto! Un minuto e mezzo, Emre Chan colpisce, colpisce subito! Cos'ha rischiato qui? Oh, cos'ha rischiato? Oddio, che canto ha tirato! Cos'ha fatto Emre Chan, bellissimo! Bravo, Sanchez, bravissimo, dentro per Gray che incrocia! Per un pelo! L'aveva lasciato lì, Reina, l'ha lasciata lì la palla. Orco cane, no, è partito male, è partito male! Buono, no, 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 che culo! Gliel'avevo rubata, gliel'avevo... ma vaffanculo FIFA, va! Gliel'avevo presa! Musonda! Mamma mia, stava per fare un'acrobazia, Musonda! Stava per fare un'acrobazia, Musonda! Ma anche Fellaini! Cristiano Ronaldo, dei poveri! Non riusciamo a far gol, è pazzesco! Bravo, Fellaini! Guarda! Ma che cazzo! Ma vaffanculo FIFA di merda! FIFA di merda! No, non dobbiamo accontentarci! Piszets mi dice non accontentatevi! Infatti Gray deve andare! Bravo Gray! Bravo Gray! Cazzo! Così si fa Gray! Con la piccatina! La piccatina! Guardatela qua! È ritornata la piccatina! È ritornata! È ritornata tra noi la piccatina! Guarda Gray adesso aggressivissimo! Abbiamo rivaltato la partita però non siamo ancora in salvezza! Non siamo ancora in salvezza perché questi qui glicciano come la merda! E FIFA li fa sempre fare gol dopo! Dopo il gol mio li fa sempre fare gol a lui! Guarda, 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 non riesco a tirarla via! Vai Mandeville! Vai Mandeville! Con calma! Con calma Liam! Dai che c'è dall'altra parte Musonda! Prendila di testa! Bravo! Bello ancora! Mamma mia! Questi giocatori qua! Vai Gray! Madonna! Oddio! Non dovevi aspettare così tanto! Ma che cazzo? Ma scusami, la Sanchez è così lento! Or, Cocane! E adesso siamo fottuti! Va bene! Vai Emre Chan! Guarda lo Musonda che è partito! Bellissimo! Questo aggancio qua è stato stupendo! Madonna! Mamma mia cosa stava facendo Musonda! È finita ragazzi! Mamma mia ce l'abbiamo fatta! Anche la seconda partita l'abbiamo vinta! Vediamo un attimo! 9.2 Emre Chan! Madonna! 506 crediti! Quindi siamo a 9.000 crediti! Terza partita siamo nella merda! Siamo fregati! Io non capisco come mai nelle ultime partite delle divisioni ci sono sempre i cazzo di bug spaventosi che ci fanno trovare le squadre della Madonna! Io non lo so! Non ci vogliono fare vincere sto cazzo di titolo! Punto! Cioè non è che ci sono degli aggiramenti delle cagate varie! Non ci vogliono fare vincere il titolo! Mamma mia! Mandeville! Oddio! Che cazzo di cosa ho fatto di prima? Liam! Vi faccio fare una risultanza della Madonna! Uuuu! Pum! Liam Mandeville! Riguardiamolo! Riguardiamolo! Pauroso! 2.500 like per Mandeville! Madonna! Riguardiamolo! Cos'è successo qui? La passata di là ha fatto così Liam Mandeville di prima Vum nell'angolino palo e gol Mamma mia! Ma di che cosa stiamo parlando? Ma che cosa stiamo dicendo? Oddio! Oddio Mandeville! Oddio che cazzo ha fatto? Grey! Grey! In velocità! Pfff! Ma vaffanculo! Grey! Cazzo Mandeville che cosa aveva fatto per te Grey? Ah no così! No cosa fa cazzo? Lagga di merda! E' finita ragazzi abbiamo preso solo un punto Ragazzi ho rimesso Dembélé che dobbiamo fare per forza la quarta partita se no non riusciamo a raggiungere il titolo in questo episodio ancora ancora perché veramente ragazzi ci hanno IF, SIF, RIP ci hanno di tutto eh in queste ultime partite sto sudando marcio veramente non sto scherzando mamma mia Usman dentro Usman Usman rientra subito dopo l'infortunio e non mi fa un gol va bene va bene va bene il filtrante oh rigore adesso però la tiriamo dall'altra parte eh la tiriamo dall'altra parte o centrale o dall'altra parte o centrale o dall'altra parte no ho sbagliato gol e invece no avevo fatto una stronzata non avevo neanche tirato e ha fatto gol di merda mamma mia Gray l'uomo dalle mille sorprese vai Gray in velocità mamma mia no non sbagliarla non sbagliarla e adesso non la sbaglia 2 a 0 Gray vai così vai così siamo nella disperazione nella sofferenza subiamo ripartiamo Sanchez bravissimo vai qua ancora Gray e adesso è ritornato è ritornato il nostro amico è ritornato Rotucina Team vai vai Musonda corri come un porco come se non ci fossero domani Kevin Musonda è da solo è da solo vede Emre Chan vede anche Gray la passa gesto di altruismo Usman Dembele fuori gioco forza bravo mamma mia oddio Kevin Musonda è andato ancora ha superato tutti ha superato tutti madonna accentrati fai un gol della madonna Kevin Musonda Kevin Musonda e Muson qua e Musonda vai così 3 a 0 vuoi andare dove vuoi andare ormai non ce l'abbiamo più ne prende oh è finita è finita abbiamo vinto il titolo ragazzi si vola Berlino si vola dappertutto si va in Germania si va dappertutto hai ottenuto 5.000 crediti ragazzi andiamo subito a comprarci il nostro Smalling oddio l'abbiamo comprato 9.000 l'abbiamo comprato 9.000 crediti va benissimo va benissimo bello buono 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 buonissimo vai Smalling e mi dispiace Stones ti metterò in panchina o ti venderò quando mi serviranno dei crediti ragazzi purtroppo la card della Canon era piena quindi ho dovuto svuotarla prima scrivetemi dei consigli sotto nei commenti su quale giocatore vorreste che io acquistassi appunto nella divisione 6 una volta che avremo abbastanza crediti io vi saluto ragazzi lasciate 2500 like Bella lì un saluto dal Cina blalalalalalalala